Per una mascherina si poteva arrivare a spendere fino a 49 euro o addirittura 14 euro per una confezione piccolissima di gel disinfettante. La Guardia di Finanza di Pescara nella giornata di ieri è intervenuta in una parafarmacia di Porta Nuova a Pescara dove erano disponibili oltre 200 mascherine e numerose confezioni di gel disinfettanti a prezzi superiori di oltre il 500% del loro reale valore di mercato. L'operazione ricade nell'ambito di una serie di controlli volti a prevenire e reprimere le speculazioni in tempo di emergenza. Oggetto dei controlli di questo periodo soprattutto farmacie, parafarmacie e sanitarie ma anche negozi di casalinghi e mercerie che in questo periodo vendono prevalentemente presidi medico-chirurgici a migliaia di persone preoccupate per la diffusione del contagio. Non solo un'attività speculativa spregevole in questo periodo di difficoltà ma sospetta anche di ricettazione tanto che le fiamme gialle hanno fatto scattare la denuncia per la titolare dell'esercizio commerciale che non è riuscita nemmeno a dimostrare l'origine e la provenienza della merce, verosimilmente acquistata online dalla Cina ed ora accusata di manovre speculative su merci e ricettazione che prevedono nel complesso la reclusione fino a 8 anni e multe fino a 25 mila euro e di presidi medico-chirurgici sono stati sottoposti a sequestro.